Ma sei sicuro che a Dani va bene, che sono in casa? Lisa, non devi neanche dirlo! Ti rendi conto che tu sei riuscita a salvare Dani da un vero e proprio rammento? Vero, hai ragione! Cioè, un cattivo ha rapito Dani e l'ha portata in un luogo tutto umido, brutto e sembrava davvero il copo di un criminale! E tu sei riuscita a capire il suo piano e a salvare Dani prima che io e sua sorella Jenny arrivassimo da lei? Hai ragione, è vero! Senti, ma mi è vero con me? Sì? Se gli facessimo un piccolo scherzettino a Dani... I veri amici si fanno sempre degli scherzi, quindi io ti supporterò e dimostreremo a Dani quanto tu sei una vera amica! Dani, aspettatemi qui! Ragazzi, Lisa è troppo una migliore amica! Non riesco a pensare a una persona più amica di Lisa! Robby! Vieni a dare una mano! Ma questa da dove... da dove l'hai portata? L'ho comprata prima al negozio qui sotto! È una palla gigante! E cosa dovremmo farci? Allora, tu adesso la chiami e poi gliela facciamo rimbalzare addosso! È troppo divertente! Non ce lo aspetterà! Ok, la scordi di qui! Dani! Che c'è, Robby? Eh, quando c'è il sugo che bolle, è normale che si sporca tutta la cucina? Perché si sta sporcando tutto! Come si sta sporcando tutto? Ah, ora arrivo io! Ah, un gelato! Sta arrivando! Preparati! Sì, altra ti salvata! Non mi sono vendicata a sufficienza! Quindi adesso, Dani, preparati! Ma si può sapere perché devi sporcare sempre tutta... Lisa, mi hai fatto malissimo! E ho sentito anche dei vetri! Che cosa hai rotto? La tua candela che ti piaceva tanto! Sì! Tadà! C'è Lisa a casa, anche se questo non era calcolato! Certo, come no? Non era calcolato! Sono tornata! Robby! Amici, questo che cos'è? Cosa ci faceva Lisa la bulla con questo passamontagna nella sua tasca? Solitamente questo viene utilizzato dai ladri, dai criminali! Eppure, credo proprio di averlo già visto, ma non mi ricordo dove! Amici, voi mi potete aiutare? Lo avete già visto anche voi? Scrivetelo nei commenti! Ecco fatto! Adesso è tutto di nuovo pulito! Gli incidenti capitano! Sì, sì! Come capita di essere rapiti? In che senso? Non capita molto spesso di essere rapiti, Lisa! A proposito, poi non ti ho mai chiesto come hai fatto a salvare Dani! Sei stata molto coraggiosa! Ma vorrei sapere un po' più i dettagli! Ehm... Ebbè, come l'ho salvata? È una domanda giustissima, Robby! Allora, io l'ho salvata facendo l'atto di salvarla, perché è così che si salvano le persone! Cioè, tu ti dici che la salvi e poi lo fai! Eh, eh, non lo sai? Ma quando sei meglio di me, Robby, come si fa? Dai! Non so se ho capito bene... Vabbè, è lei che l'ha salvata, quindi sarà sicuramente così! Ci sono! Lo aveva il mio rapitore! Perché non ci ho pensato prima? Non ci posso credere! Allora è stata lei a rapirmi! Devo assolutamente chiamare mia sorella Jenny! Lei saprà aiutarmi! Dai, su, qua e dentro! Ah! Ah! Sono qui! Ma Super J ha il rapporto! Ma si può sapere perché ti sei vestita così? Beh, tu hai detto che avevi bisogno del mio aiuto e io sono la tua eroina! Sì! Vieni, vieni! Oh, che amico! Jenny è qui! Sorellina, vieni qui e smettila di fare Super Jenny, su! Oh, non mi lasci mai divertire! Lo sai cos'è questo? I tuoi mutandoni! I miei mutandoni? Ma io non porto mutandoni! E allora questi cosa sono? È un passamontagna! Hai presente quelli che indossano i ladri, i criminali? Non temere, dammi! Ci sono io! Non ci crederai mai! Ma questo passamontagna lo indossava il mio rapitore! Quello che mi ha rapito pochi giorni fa! E indovina dove l'ho trovato? Ah, il negozio di passamontagna usati? No! L'ho trovato in tasca a Lisa la bulla! Questo significa che ha rapito anche Lisa! E Lisa l'ha preso perché voleva andare a denunciare il rapitore! Tutto chiaro, Dani? No, Jenny, significa che è stata Lisa a rapirmi! Si voleva vendicare! E tu sei sicura di questo, Dani? Beh, credo di sì, non lo so! Quel giorno indossavo una benda e quindi non ho avuto modo di capire chi fosse il mio rapitore! Quindi tu avrai il compito di aiutarmi a scoprire tutta la verità! Oh sì, Super Gianni è qui, Dani! Ti aiuterò io! Chi è? Lei è Lisa? No, non sono Lisa! Ma Lisa ti sta cercando questo dottore! Lei è Lisa? Sì! Benissimo! Allora iniziamo subito! Che sta succedendo, dottore? Guardi qui! Allora? Allora? No, non vedo nulla! Bene! Questo è il primo sintomo! Primo sintomo di che? Lisa, stai bene? Sì! Assolutamente no! Non sta affatto bene! Non stai bene, Lisa! Adesso sto cedendo! Non lo so! Quel dottore lì in realtà è mia sorella Jenny! Farà credere a Lisa di avere una malattia super rarissima! E Lisa sarà così spaventata da confessare qualsiasi verità! Ah, non vedo l'ora di sapere tutto! Gravissimo! Gravissimo! Cosa? Non c'è battito! Non c'è battito! Come non c'è battito? Non c'è battito! Mi faccio sentire! Mi faccio sentire! Cosa? Il cammù! Ah! Ah! È affetto! Oh mamma! Lei signorina è affetta da un morbo! Il morbo della nuca! Oh, è horrorissimo! È contagioso? Assolutamente esiste! Veloce signorina! Si stenda sul tavolo! Presto! Presto! Senti! Che cosa è? No! La stiamo perdendo! Dov'è? Non è questo! Eccolo! È questo qui! Io non voglio avere la bucca pazza! Allora signorina! Mi dica! È in caso ha delle cose cattive da confessare? Delle cose cattive da quando una certa persona di nome Dani? Eh? Andiamo! Ma come conosce Dani? Tutti conosciamo Dani! Chi è che non conosce Dani? Jenny! Ti posso spiegare? Jenny questo non è uno scherzo divertente! Eh 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 Tadà! Sei su scherci di Jenny! Ah 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 bravissima! Ci sei cascata! Non si fanno questi scherci! Vai via! Oh uffa! Dani ha detto che sarebbe stato divertente! Vabbè ciao! Dani? Ma io! Io lo sapevo che era tutta opera sua! Beh allora ha confessato! Eh eh! No Dani! In realtà no! Sei molto intelligente! Oh no! Quindi mi stai dicendo che non sei stata credibile! No! Non ha funzionato Dani! Ma non ti preoccupare! Mi inventerò qualcos'altro! D'accordo? D'accordo sorellina! Dani! Aspetta di qualcuno! Eh ciao! Ciao bello! Per caso c'è Lisa? Eh eh! È lì sul divano! Ma perché tu te la cercate oggi? Eh ragazzo! Portami dall'acqua! Devo parlare con Lisa! Ma non c'è neanche chi sei! Eh l'acqua la vuoi frizzante o naturale? La voglio frizzante! E ti devi sbrigare! Ciao Lisa! Come stai? Tanto che non ci vediamo! Ciao! Tu chi sei? Ma come? Non ti ricordi di me? No! Ma come? Abbiamo fatto un sacco di cose assieme! Soprattutto cattive! Ma scusami! Tu sei Kevin? Quello della seconda B? Certo baby! Sono proprio io! Mi sono mancato adesso! Ti dirò! Questa volta funzionerà sicuramente! Jenny si sta fingendo un vecchio amico di Lisa! Guardate! Sembra davvero un bullo! E le farà confessare una volta per tutte quello che ha fatto! Sì 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 signor! Kevin! L'ho portato l'acqua frizzante! Dammi stare! Ci hai messo di tempo eh! Era calda e non l'ho apprendata! Ma chi è questo qui? Lo conosci? Eh sì! Lui è Robby! È il mio migliore amico! Un piacere! Io non ti ho la mano! Ok! Comunque stiamo parlando qui! Sì Robby ci puoi lasciare un pochino da soli! Abbiamo tante cose di cui parlare! Esatto! Ma è in casa mia questa! Ti prego! Per la tua migliore amica! Ti ha sentita no? Va bene! Vado via! Grazie! E allora Lisa in memoria dei bei vecchi tempi fai ancora la teppista giusto? Allora proprio ti devo dire la verità ci sta una tipa! Una tipa? Sì quanto non la sopporto! È proprio una Miss Perfettina! E chi è? Chi è? Dimmi il nome! Come si chiama? Magari la conosco! No no non puoi conoscerla! Ah ok! Dai Lisa facciamo una cosa! Facciamo un gioco! Ok! Diciamo una cosa cattiva che abbiamo fatto a testa! Mi piace! Dai! Inizia tu! Inizia tu! Ehm... No! Allora prima tu! Ehm... Ok! Ehm... Ehm... Ieri sera ho rubato una bicicletta! Sì! Ora tocca a te! Dai! Dimmi! L'altro giorno ho preso una caramella dalla borsetta di una vecchietta sull'autobus! Divertente! Sì! Io invece ho fatto cadere un bambino! Ora tocca di nuovo a te! E dai! Parlami! Ehm... Hai fatto qualcosa di cattivo di recente alla ragazza di cui mi parlavi prima? Ehm... Che c'è? E che? Che c'è Lisa? Ehm... Jenny? Ehm... Di nuovo tu? E sai... Mi sta allenando a fare scherzi! Perché io voglio diventare un clown di professione! Sicuramente sei un pagliaccio al momento! Esatto! Poi, poi! Vado via! Sì! Sì! Ciao! Mi ridai i baffi per favore mi servono! Grazie! Ciao! Dani sta esagerando adesso! Jenny ma... Cosa ti è successo? Perché hai... Hai... I baffi proprio qui? Eh, non è andata tanto bene neanche questa volta Dani! Non ci posso credere! Allora Lisa, è davvero furba! Beh, ovviamente è una bulla! Ma come facciamo a farle rivelare tutta la verità? Verità! Eh? La macchina della verità! Aspetta qui, la vado a prendere! Sì! E voi amici, iscrivetevi al canale di Dani e Robby perché ho bisogno del vostro aiuto per farle rivelare tutta la verità! Amici, facciamo un gioco tutti quanti assieme? Finalmente Dani ti sei decisa a giocare insieme a noi e hai capito che Lisa è una tua amica! Perfetto! Perché ho chiamato uno scienziato con una macchina della verità! Prego, prego scienziato, venga! Buonasera, caro Tani! Buonasera! Ha portato la macchina della verità! Certo! Guarda, eccola qui! Wow! Una macchina della verità? Vera? Possiamo rivelare tutti quanti i nostri segreti e saremo ancora più amici! Sarai il primo ad iniziare di noi tre? Voglio iniziare io, voglio essere il primo con la macchina della verità! No dai Robby, facciamo la conta! La conta? Sì! Ok, chi la fa? Io! Vado! Ambra, maggi, ciccocò, tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore si amano Ambra, maggi, ciccocò! È uscita Lisa! Che fortuna! Sei uscita tu da questo conto! Dai, su Lisa, sieni di qui e facciamo la macchina della verità! Ah! Ecco qui, ora accintiamo! Perfetto! Ora colleghiamo a mio marchigine questo! Ecco fatto! Tutto pronto! Ahahahah! Beh, su! Dai, proviamo se funziona! Sì, 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 proviamo! Quando tirai una bugia, questo sireno si attiverà e tu riceverai una scossa fortissima! Ahahahah! Ma siamo sicuri che non è pericoloso, giusto? Mio cara Lisa, ora non hai scampo, dovrai rivelare a tutti la verità! Prima domanda! È vero che ti chiami Lisa? Sì, mi chiamo Lisa! È vero! Non si è accesa e non è appunto scossa! È la verità! Passiamo a altra domanda! È vero che sei amica di Dani? È vero che siamo amiche io e te? Beh, io mi diverto molto con Dani! Non si è accesa, tu non hai avuto scossa! È vero! Mamma? Lei non ha detto che siamo amiche, ha detto solo che si diverte a farmi gli scherzi! Ma cosa dici Dani? Ha detto la verità! Visto che siete amiche e tu sempre che ti lamenti, voglio fare io una domanda, voglio farla io! Certo! Una domanda a testa, prego! Chi è la persona più simpatica dei nostri amici? Ora dirà sicuramente me! Avanti, rispondi tu manta! Ah, Dani! È vero! Ma come è possibile? Ha detto che sono la più simpatica tra tutti? Ma se lei mi odia? Ma Lisa sta sicuramente mentendo! Questa cosa non funziona bene! Ah, Robby, provalo tu un secondo questo casco! Ah, davvero? Posso provarlo io? Che bello! Arrivo, arrivo! Dai, su, tieniti proprio qui! Sì! E metti questo qui in testa! Ok! Abbiamo paura che questo casco non funzioni bene, quindi devi dire una bugia! Una bugia? Sì! Va bene! Tanto se non funziona non avrò la scossa! Eh no! Ok! Allora, caro Robby, tu ami Dani? Eh, devo dire se amo Dani? Eh, ma devo mentire! Sì, Robby, devi dire una bugia! Ok! Eh, no! No! Non amo Dani! No, 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 no! No, 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 no! Oh, no, no! Robby! Robby! Allora, questo casco funzionava per davvero? Ovvio! Il mio marchigine ha funzionare bene! Certo che funzionava! Io non ho mentito! Ho detto una specie di verità! Jenny, questa cosa non funziona! Serve dell'altro! Vai su! Piano, piano, piano! Certo che mia sorella è un disastro! Non ne combina una buona! Buonasera! Robby, perché c'è la polizia a casa nostra? Glielo dico io perché signorina! Perché c'è un'accusa di rapimento! Rapimento per chi? Da parte di... Lisa? Sì, noi sospettiamo di lei! Lisa, vogliono proprio parlare con te! Lisa, non ti preoccupare! Quella poliziotta vuole sicuramente premiarti perché hai salvato Dani da un rapimento! Lisa? Sì? È vero che hai salvato Dani da un rapimento? Sì! A me non risulta perché vedi abbiamo trovato delle tue impronte su un oggetto di tua appartenenza! Dani! Fornisci la prova numero A! Eccola qui! Questa qui ti dice qualcosa Lisa? Io... Io quello non l'ho mai visto in vita mia! E perché? Era proprio nelle tue tasche? Questo lo dici tu! Ce l'avrei messo tu nelle mie tasche? Io? No no! Sono stata rapita! E tu sei stata! Quindi ora confessa tutto alla poliziotta! Esatto! Confessami! Abbiamo trovato le tue impronte digitali qui sopra! Non puoi negarlo! È tuo! Lisa! Magari questo passamontagna è tuo! Diglielo che in realtà forse avevi il freddo e volevi essere alla moda! A me non interessa signorina Lisa! Per me lei è colpevole! E c'è solo un modo per liberarsi da queste manette! Ovvero dire la verità! Va bene! Ok! Sono stata io è vero! Ma dovevo vendicarmi perché Dani è stata così cattiva con me! Ah! Vedi? Quindi tu, lei, Lisa ha rapito Dani! La verità viene sempre a galla! Sì! Sono stata io! Ah! Bene cara ragazza! Chi rapisce le persone? Vai in galera! Quindi ora marsi! Ferra! Ciao ciao! Mai più! Sì sì! La porto in prigione! Vada vada! Come sono contenta! Finalmente Lisa la bulla si è levata dai piedi e soprattutto da casa mia! Ah! Dani! È stato troppo divertente! Ma quanto tempo ci avete messo a imparare tutte le parti di questa recita? Magari lo portate anche a teatro! Fate... Lisa si finge una bulla e viene arrestato! Wow 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 wow! È divertentissimo! Robby! Lisa è stata davvero arrestata! E ha confessato tutto! Ma no! Ma Lisa non farebbe mai queste cose! E poi è lei che ti ha salvato! Figurati se è stata lei a rapirti! Sei proprio ingenua delle volte! Ah! Robby! E... 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 Grazie a tutti.